Mio polenta senza niente, o niente senza polenta? A mangiare un po' senza polenta, se si scatti in idei, fissi dorsi di furla niente, vieni polenta e l'igri. Alvegno, non senti l'odore di polenta. Buongiorno, avete capito che ho fatto la lingua, no mo? Sì, Boulos, proprio ti piace. Buongiorno, mi piace. Soprattutto in questo agrofomigiale, magari con una biele macedonia o con un po' di gelato d'oltre. Golis. Ma no, dai, scherzi. Mi plasmano sul po' di palboro. In questo video ho avuto un sacco grande di cusine furlane, dal compagnatore ufficiale di NST Plus, di un prodotto che ha avuto una grande importanza tra queste tradizioni culinarie. La polenta. I romans le preparavano dopo la blava, che però, tache volte, si riferiva un po' a tutti i cereali, come la spelte e il warding. Con la scubierta dell'America e la grande diffusione di queste culture, invece, la blava è attaccata a rifersi d'ome al mais. Per un bel po' che i furlans hanno mangiato polenta a spragli e ballone. Per farmi spaventare, spesso erano l'unica roba che si doveva mangiare, tant' che la polenta veniva acclamare anche il pan dei furlans. Sin di mangiare così tante, che la gente si manlava di pelle agare, che veniva perché mangiare una vitamina importante per l'organismo, ma che la blava non trattata non ha. Insomma, con la grande diffusione di farine di polenta, il suo comune e l'ingegnere furlans sono nassù i plus tra i più buoni e famosi e nesta tradizione, come il grum di varianti dal zoo. O quel plat che qualcuno c'è ora non l'è ben capito che si dice. il tocchi in braide, morbido, bont, calorico, ma a me c'è gole. Buong, a noi andiamo che sennò mi viene le aghe in bocce. Ah, e se ho sesso verso il furlans, saperebbe anche che gli spaventi non sono tutti i compagni. In Friul esiste una varia di qualità dei grandi antichi di blava. Ovilna rossa di aquilè, che è di soclef e di resia, il pignoletto, il più famoso cinquantino, o il dente di cavallo, quando c'è ora la blava di morte anche. Una più buona di che altre. Ogni d'una è ideale per un'una specifica. Per esempio, le porrenti di farine bramade e vanno a gnocchi con il salvatore. Se si zonte i saracin, il grano saraceno, il sapore ha le più dolce, che con il cinquantino, invece, gli è buinone rustide. Insomma, ogni piatto almerete la polente giusta perché i due sorsi assiedono in esaltazione. Come ora però ho facendo in serie, con la polente non si scherza. Perchè, che vuole in gente anche messa dalla polente con lei. Pocca la polente? Sì, che vero è? Mica che è istantaneo o per via. Ma è un vero lavoro. Proviso, ti metti fuori il cartell Do not disturb fuori l'angivore quanto le da ora una preparare. Ma sono regoli precisi di rispettare. Il saldario di ram, le proporzioni giuste le traga e polente, le flamme giuste, i lenchi con le mani bianchi lunghi, i movimenti giusti e il messaggio che si attacca. Buon, vanno le teorie. Passiamo alle pratiche. Io ora ti metti sulla polente. FANTAS. e per fare le polente non prendo ovviamente il mani di lei da tradizione come si è segnati i nonos ma ho poi appello ad un'invenzione moderna che è il chiosul che almeno le polente di Bessone così che io ho fatto un po' di preparare il catri da insomma di giunta insieme alle polente quindi come ho fatto un po' cut e dopo lei a ribaltare insieme a dopo alvene mi tenta l'odore di polente allora è che quasi una ruta che si inchieta il fuoco e il disarese che ho si inquadri per capire che le polente sono quasi pronte basta viaggiare in bandecca gli scrosti che si tacchino a staccare di Bessone qua anche si stacchino bene un'idea che le polente sono pronte il plat da polente da fa me ok pronte come mi ha insegnato meno uno piano via il spago prima di fare un segno di una crosta di una bande dopo va per giù quanto fa danse? qua mi schiampo e via così dopo pan panc ecco le polente fatte non sarà bellissima ma sicuramente è buona quindi ora non nemmeno mai che cercare non so già che è buona già cercare di scartare la città di buonissi buonissi ma nicolas e se vance? c'è faccio di ieri di dopo? frus di tutto di tutto un po' del rustile torna a scottare fare le fritte far side facciamo un po' del prale per far che io chiami il paninfo urlano 2 fettis di polente rustide e ti ammietti un tocco di formale di montasso con 2 fettis di salano disegni dopo se non usereste che mangiamo lì